Ah, altra fiction molto bella, che sto seguendo, è Nero a metà, quello con Claudia Mendola. Ecco, quello è un giallo, è un poliziesco diverso dagli, insomma, più intrigante rispetto agli altri. Quindi, qua Mendola fa il commissario di polizia, comunque c'ha la figlia, c'ha il compagno di colore, subito era un po' razzista, è una serie comunque intrigante. Ha debuttato in questi episodi, negli ultimi due, che è uscito il terzo e il quarto episodio, Caterina Guzzanti, che fa la responsabile della scientifica. Quindi sarà lei a prendere i rilevamenti e fa sempre un personaggio un po' stralunato, un po' quasi, anche in certi punti, quasi in chiave comica. Però lo fa molto bene, è amalgamata molto bene in questo contesto poliziesco, perché smorza un attimo la tensione. Se abbiamo comunque un caso di omicidio, spaccio, stuberi, perché comunque non è Don Matteo, è qualcosa di più, molto più, diciamo, pesante. Comunque c'è più, vai più sul dramma che sulla commedia. Però il personale di Caterina Guzzanti smorza col suo fare, in alcuni versi comico, smorza un attimo la tensione. Poi dopo comunque il giallo va avanti, la storia orizzontale c'è, i misteri dentro questa storia orizzontale sono sempre più fitti e quindi c'è da andare a sbrogliare un po' tutta questa matassa che si sono creati negli anni. E la recitazione è decisamente più alta rispetto a Don Matteo, perché Don Matteo, vediamo comunque Terence Hill, che porazzo c'è la sua certa età. Lino Forasica è bravo, perché se la cava bene, i protagonisti sono bravi, a parte Natalina che è un pessimo. Tutti i comprimari e tutte le comparse, le guest dell'episodio, proprio giusto il lustro di andare a fare una parte in Don Matteo, perché sono mediocre, in alcuni punti pessimi. Invece qua, in Euro a metà, tutto il cast e anche i comprimari sono ben selezionati, quindi sono contento.